L'effetto serra è uno dei concetti chiave nell'ambito della comprensione dei cambiamenti climatici globali. Questo fenomeno naturale svolge un ruolo cruciale nel mantenimento delle temperature sulla Terra a livelli adatti alla vita. Tuttavia, a causa dell'attività umana e dell'emissione eccessiva di gas serra nell'atmosfera, l'effetto serra è diventato un tema di grande preoccupazione in quanto sta contribuendo al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici. L'effetto serra è un processo naturale che trattiene parte del calore proveniente dal Sole nell'atmosfera terrestre, mantenendo le temperature medie planetarie a livelli accettabili per la vita. Questo processo avviene grazie a una serie di gas presenti nell'atmosfera, noti come gas serra, che includono il biossido di carbonio, il metano, il vapore acqueo, l'ossido nitroso e altri. Quando la luce solare raggiunge la Terra, parte di essa viene riflessa nell'atmosfera, mentre la restante viene assorbita dalla superficie terrestre e riscaldata. Successivamente, la Terra irradia il calore sotto forma di radiazione infrarossa. I gas serra nell'atmosfera agiscono come una coperta isolante, permettono al calore proveniente dalla superficie terrestre di passare attraverso di loro, ma trattenendo parte di esso nell'atmosfera. Questo crea un equilibrio termico che mantiene le temperature sulla Terra ad un livello adeguato per la vita. Senza l'effetto serra, la temperatura media sulla Terra sarebbe molto più fredda, rendendo difficile, se non impossibile, la sopravvivenza degli organismi viventi come li conosciamo. Tuttavia, l'attività umana ha alterato drasticamente questo equilibrio naturale. L'industrializzazione, l'uso di combustibili fossili, la deforestazione e altre attività hanno portato ad un aumento delle emissioni di gas serra, soprattutto di co2 e metano. Questo aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera amplifica l'effetto serra naturale, intrappolando più calore e innalzando le temperature globali. Le conseguenze dei cambiamenti climatici causati dall'effetto serra sono evidenti in tutto il mondo. Il riscaldamento globale sta portando a fenomeni come lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi più frequenti e intensi, alterazioni negli ecosistemi e impatti sulla sicurezza alimentare e idrica. L'effetto serra è un processo naturale essenziale per il mantenimento delle condizioni adatte alla vita sulla Terra. Tuttavia, l'attività umana sta alterando questo equilibrio tramite l'emissione eccessiva di gas serra, portando a cambiamenti climatici globali significativi e spesso devastanti. La comprensione dell'effetto serra e delle sue implicazioni è fondamentale per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e per adottare politiche e comportamenti sostenibili che possano mitigare i loro impatti negativi sul nostro pianeta.